Ehi, che aspetti? Corri a scaricare la nostra app, è gratis, ci sono news, contest, guide e molto altro. Cercala per iPhone e iPad, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione. E salve a tutti e ben ritrovati, questo nuovo appuntamento con Apple Zane, siamo qui per la top musicale del mese di novembre. Allora ragazzi, questo mese è stato molto ma molto vasto, per quanto vi riguarda ovviamente ho spaziato un po' su nuova musica, sono passato a generi completamente diversi, cioè non completamente diversi ma diciamo a brani un po' più vecchi, c'è meno roba nuova, è uscita poco roba nuova, quindi vi faccio sentire subito. Iniziamo subito con un brano che si chiama Killax, ed è di Farrucco. Sentiamolo insieme. Il secondo brano invece che vi propongo questo mese si chiama Un beso, ed è di Farrucco. di Baby Rasta i Gringo, ma ascoltiamolo insieme. E l'ultimo brano di oggi si chiama Rock Abai ed è di Clean Bandit Fit Sean Paul, ma ascoltiamolo subito. E con questo ragazzi io vi saluto, come al solito scrivetemi qui sotto nei commenti i vostri brani top del mese di novembre, fatemi sapere i vostri gusti musicali, fatemi sapere le vostre canzoni preferite, le ascolterò e potreste finire nel prossimo video. Vi ricordo come al solito di mettere il centro di piacere nel prossimo episodio, iscrivetevi, commentatevi, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per Apple Zane, ciao! Grazie a tutti!